La discussione che ha visto coinvolto il Governo e anche in termini favorevoli mi pare molto riduttivo e di poca prospettiva per dei comuni che vanno in dissesto. Ne cito due, in particolare, un... I banchi del Governo, per favore. Presidente Bratti, per favore. Ovvero il Comune di Magliolo in provincia di Savona, che ha accantonato risorse per 4 milioni di euro, non li può spendere, e il Comune di Sesti-Levanti, che chiede di utilizzare l'avanzo di amministrazione come parte tra l'entrata. E per poterlo utilizzare e non sforare il saldo. Quindi, io credo che, dato che la discussione, ripeto, c'è già stata, l'impegno del Governo deve essere, secondo me, maggiore rispetto a una formulazione del valutare l'opportunità. La ringrazio. Ah no, quindi il Governo. No, solo per chiarire in termini generali qual è il criterio. L'impegno del Governo ad affrontare il problema c'è. L'impegno del Governo in queste sede a impegnarsi a spendere non siamo in grado di farlo a priori, perché il giorno dopo, giustamente, viene detto che vi siete impegnati ad una spesa. Quindi tutto ciò che riguarda impegni di spesa, non impegni sui contenuti, hanno bisogno di una cautela. Questo è il problema. Quindi io raccomando questa riflessione sul fatto che bisogna affrontare il tema delle discariche, così come è stato, e poi riguarderà altre questioni come quella di alcuni comuni che hanno avuto problemi di altro tipo. Tutto ciò che riguarda affrontare il problema, di sicuro, è cercare anche una soluzione al problema. Ma prendere un impegno formale ad un impegno di spesa, allora la formula non valutare l'opportunità inadeguata. Presidente, troveremo tutti insieme formule più adeguate di questa ambigua, però non potete chiedere al Governo che si impegni formalmente ad un impegno di spesa, perché giustamente il giorno dopo verrebbe richiesto l'impegno di spesa. Ad affrontare il problema siamo assolutamente d'accordo, l'abbiamo già riconosciuto, che è un problema che va affrontato. Questa è, diciamo, la questione delicata che abbiamo in queste situazioni. Quindi, se è possibile accogliere la formula, valutare l'opportunità o una formula che risponda al problema, la differenza tra affrontare il problema e decidere oggi che c'è un impegno di spesa. Onorevole Pastorino, questo è il punto. Pastorino? Io ringrazio per la spiegazione. Se è vero che il Governo non può prendersi questo impegno, è anche vero che non è più tempo di chiedere ai Comuni di non fare le cose. Pastorino, mi dica solo sul parere, perché lei è già intervenuta. Sul parere non sono d'accordo, non accetto questo tipo di riformulazione, in quanto attendevo un impegno. Quindi lo mettiamo in votazione. E quindi lo mettiamo in votazione. Allora, dichiaro aperta la votazione sul 39, Pastorino, parere contrario. D'Ambrosio. Ci siamo. Ci siamo.